Dovrò di nuovo accusare e accusarmi di aver ucciso la mamma di Denise che occupa il primo posto nel mio cuore, così Carmine Venturino che parla ai giudici del processo d'appello per il sequestro e l'omicidio della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. Per me oggi è un giorno molto difficile perché dovrò di nuovo autoaccusarmi di aver concorso nell'omicidio di Lea Garofalo che è la mamma di Denise Cosco e Denise Cosco è la persona che occupa il primo posto nel mio cuore e io non sto accusando gente qualunque, non sto accusando strane. Amore dichiarato per la figlia della vittima che contrasta con i particolari raccapriccianti dei fatti. Mentre il corpo bruciava le spaccavamo le ossa con una pala detto Venturino che entra nel dettaglio dell'assassinio anche davanti a Carmine Cosco presente dietro le sbarre ex compagno di Lea. Carlo Cosco è un andranghettista ha spiegato Venturino ed ha sempre avuto il progetto di far sparire Lea. Nella scorsa udienza Cosco a oltre tre anni di distanza dall'omicidio aveva confessato in aula di aver ucciso la donna e di voler parlare anche per la figlia. Oggi ventunenne sotto scorta per aver accusato apertamente il padre. Io darei la vita per mia figlia aveva detto guai a chi la sfiora prego di ottenere un giorno il suo perdono.